conferenza ieri però a questo punto io lo faccio io indegnamente ma lo faccio io non posso a nome di tutti non rivolgere un grazie immenso da parte di tutti noi da parte di tutta radiomeria a padre Livio a padre Livio per il coraggio la costanza la fedeltà l'equilibrio la chiarezza in tutti questi anni che sono stati non certo semplici perché tenere la barra dritta in questo marasma che ci circonda e ci travolge senza che nemmeno ce ne accorgiamo è davvero un'impresa eroica quindi pensate dicevamo prima no la maggior parte degli italiani oggi apprende da questi talk show televisivi dai giornali tutto viene diciamo strumentalizzato in base a come si deve presentare queste cose quindi pensate a cosa non è radiomeria con padre Livio ma questo gli addetti ai lavori lo sanno molto bene poi ci sono invece le tuttologhe i tuttologi specializzati nel rusicare però questo fa parte per la loro lotta per la sopravvivenza quindi ce ne siamo fatti una ragione tranquilli